L'Empoli fa il colpaccio al Franchi, battendo la Fiorentina 0-2, vincendo il Derby, scavalcando l'Udinese a quatt'ultimo posto. La Fiorentina veniva da quattro successi in cinque gare, agganciata dal Napoli al quarto posto. González scatenato ma murato due volte poi alza la mira, prova Duca dalla distanza ma passa L'Empoli con Caputo. Capitalizza con Scavetto con Cross di Inrassi, ventunesimo, il bis cancellato al VAR. Per tocco di braccio sottile, prima specra, poi chiama Delisha al tuffo, all'ottantaduesimo, la doppia, quasi. Con assist, fazzini. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!